Due pediatri sono già andati in pensione e un terzo a breve li seguirà. La carenza di pediatri a Fano è stata lanciata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri, che ha presentato un'interrogazione nell'Assemblea Legislativa delle Marche. La situazione è che dal primo di ottobre sono andati in pensione due pediatri stimatissimi della nostra città, che sono il dottor Tonelli e il dottor Bellagamba, e per fortuna non nell'immediatezza, però prossimamente andrà in pensione anche la dottoressa Dami. Quindi il nostro distretto avrebbe bisogno di 11 pediatri, per ora siamo sotto di due, quindi la regione si è mossa facendo una procedura straordinaria per il recluttamento di pediatri, però da quello che è emerso è che si sposterà un pediatra da Fossombrone a Fano, un pediatra che già ha quasi il limite di pazienti seguiti e quindi capiamo che la coperta è corta perché se il pediatra si sposta a Fano resta vuoto Fossombrone, resta sguarnito Fossombrone. E pare che ci sia anche l'idea di uno spostamento di un altro pediatra da Cagli. Il problema è che non si sono trovati sostituti perché, a dire il vero, la programmazione negli anni scorsi è stata sballata e quindi non si riesce neanche ora con le borse di specializzazione, che devo dire la verità sono state aumentate dalla giunta a Quaroli, a coprire tutti i pensionamenti. Quindi è stato aumentato il massimale di pazienti che ogni pediatra può seguire, però purtroppo non è sufficiente e c'è stato un altro problema che è stato quello delle lunghe liste file agli sportelli per il cambio dei pediatri perché purtroppo non era funzionante neanche il sito e su questo punto non ho avuto alcuna risposta.